Nell'intento di supportare l'economia locale, la Camera di Commercio di Treviso Belluno punta anche sul sostegno all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese operanti sul territorio, attuando una serie di interventi mirati. Abbiamo avviato con la Regione Veneto un accordo di programma, la Camera di Commercio di Treviso Belluno e Venezia Erovigo perché ovviamente ci deve essere una partnership dalla Regione, quindi abbiamo messo a disposizione come Camera di Commercio un milione di euro e 800 mila euro vengono messi dalla Regione Veneto. Questo per accompagnare le nostre imprese all'estero, per far conoscere le opportunità che l'estero può dare a un territorio come il nostro dove esporta già il 50%. Bisogna incrementare questi dati. Abbiamo appena pubblicato i dati sull'export della nostra Camera, sono 18 miliardi solo per le due province Treviso e Belluno. Quindi adesso noi metteremo a disposizione dei bandi dove le imprese potranno attingere a questi bandi per un finanziamento, per dei progetti condivisi con le categorie economiche perché ovviamente ci deve essere una certa strutturazione per alcuni bandi, però insomma siamo attivi già da adesso per far sì che noi esportiamo il 50% ma che si superi questo 50%. Servizi di accompagnamento al business, formazione, eventi e progetti innovativi per crescere nell'economia globale. Sono molte le attività predisposte con l'obiettivo di sostenere l'economia del territorio. Do solo un dato. La nostra Camera di Commercio emette 34 mila certificati per l'export in un anno. È il più alto numero di certificati che una Camera di Commercio in Veneto emetta. Quindi direi che no è positivo, più che positivo che si vada in questo senso. Le risorse messe a disposizione sono risorse molto importanti. Tra l'altro so che anche le associazioni di categoria si stanno attivando, in questo caso gli artigiani con lente bilaterale. Ci sarà un filone dedicato proprio alla piccola e alla micro impresa.